Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 7 ottobre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo pesci. Una giornata quasi perfetta. Giornata perfetta o meglio quasi, perché ad appesantirla, ma con profondità e saggezza, provvede il vostro inquilino Saturno, che fa fatica a sorridere. E invece dovrebbe, perché sorridere fa bene, predispone l'anima all'incontro e gli altri a un approccio empatico e piacevole nei vostri confronti. Di più, fa bene alla salute fisica e mentale e aiuta a vedere la coppa metà piena della coppa. A insistere su questa, la più dolce e gustosa, ecco il sestile di Giove e il dolcissimo trigono della luna d'acqua, nel segno romantico e sognatore del cancro, tale e quale al vostro. Grandi ispirazioni creative sul lavoro che vi aprono ottime prospettive, fantasticare crea la realtà e voi che in quest'arte siete maestri, sapete il fatto vostro. Inizialmente timidi a una festa, ma in mano che prendete confidenza cominciate a sciogliervi, magari parlando di arte, di storia, di pedagogia, tutti argomenti a cui siete appassionati. Un chiarimento che si annuncia positivo. Una confessione, un rendere noto, una dichiarazione. Qualcosa verrà presto annunciato e formalizzato. I single potrebbero ricevere qualche dichiarazione sulla quale però dovranno meditare abbondantemente. Confessioni di piccole bugie, misteri svelati. Il lavoro potrebbe andare decisamente meglio solo se tu rimorginassi meno e ti impegnassi di più. In fondo è un periodo di ficle. Oggi potreste avere problemi con la persona che vi vuole bene che continua a non capire le piccole vostre contraddizioni e pensa che variate. Avrete delle chances per dimostrare che siete sinceri e trasparenti. Aspettate una notizia importante. Cercate di accoglierla al meglio e di sfruttare l'occasione. Una telefonata potrebbe cambiare il corso degli eventi. Non trascurate i dettagli. Oggi vi sentite particolarmente curiosi. Misteri e segreti vi affascineranno. Ma attenti a non rivelare i vostri. Cambierai opinione spesso. Non aspettarti molto dagli altri oggi. Bene l'umore ma dovrete affrontare il serio problema di rivedere alcune vostre amicizie che potrebbero non essere sincere, valutate ogni cosa dovendo decidere fatelo drasticamente. Abbiate più fiducia nel partner che riuscirà a tirarvi fuori da una situazione non molto piacevole. Oggi non vi senirete liberi di scegliere, particolarmente le persone di età compresa tra i 30 e i 40 sentiranno il peso delle imposizioni e verrà loro spontaneo ribellarsi. Marte in opposizione, prudenza. Molte buone notizie in arrivo a partire da oggi, non tutte saranno sorprendenti, ma tutte, o quasi, saranno positive. Buone occasioni anche in amore. La luna cancro vi rende attenti e delicati nei rapporti con gli altri. E per il vostro modo di essere ricevete tante attestazioni di affetto. Per l'aspetto familiare avete qualche pensiero, ma riuscite a minimizzarlo con l'ottimismo, specialmente se nati in marzo. Gli astri vi consigliano di attendere almeno qualche altro giorno se dovete mettere l'accordo in famiglia. Da un punto di vista delle relazioni interpersonali, gite e riunioni estemporane e con amici simpatici vi donano il buon umore. Con Giove positivo se siete della seconda decade è opportuno, per ritrovare una buona condizione psicofisica, colmare il quotidiano di socievolezza. E la scena astrale è magnifica e appare lo squillante annuncio di un periodo trionfale per un autunno tutto d'oro. Saturno nel vostro segno mantiene il gas al minimo, niente entusiasmi dunque, specie se con una settimana così pesante sulle spalle vi sentite davvero affaticati. Lasciatelo brontolare il vecchione, le altre stelle importanti tifano per voi garantendovi una serata magica, la luna acquatica in cancro, intrigono al vostro segno tutta tenerezza e romanticismo, e Giove in toro in sestile, godurioso e giramondo, fanno il tifo per voi portandovi in viaggio non alla guida ma come rilassato passeggero, a cena, a una festa tra amici, oppure a casa fino a domattina all'alba a farvi coccolare dal partner fra le sue braccia calde e piene di tenerezza. Pupi adorabili cenano senza fare storie dopo il bagnetto che fate loro con tenerezza se ne vanno a dormire lasciando campo libero a voi e alla vostra dolce metà. E allora a che baci. Proprio come nella vecchia canzone spagnola Besame, Besame Muco. Amore ed Eros. Dopo una tremenda scornata sul vostro viso si legge solo diffidenza, unita a una profonda malinconia, peccato davvero proprio nella giornata che il calendario mondiale dedica al sorriso. Ma di lì a poco abbracciando una persona cara o ricevendo un messaggio dolcissimo ecco che quel sorriso finalmente arriva. B e i momenti col partner scambiandovi intime confidenze, con i pupi giocate finché non crollano dal sonno, il guaio è che crollate per primi voi. Inizio di giornata abbastanza sereno con il partner. La luna armonica vi rende teneri e concilianti. Cercate di continuare ad esserlo pure in serata, quando insolitamente potrete diventare capricciosi. Grande conferma del fascino per tutti i single della terza decade. Lavoro e denaro. Rigorosi e coscienziosissimi fino all'ora di chiusura, vi siete fatti una buona nomea e non intendete perderla solo per aggiudicarvi mezz'oretta di riposo in più. Soddisfatti del vostro operato, di un esame appena sostenuto e di un colloquio di selezione dove, a sentir voi, vi siete fatti onore e probabilmente è proprio vero, perché siete persone obiettive e non raccontereste bugie gratuite, tanto più che comunque verrebbero presto smascherati dai fatti. Serata piacevole per una passeggiata, uno spettacolo, una serata romantica in sala da ballo. Niente rock, disco dance o latino-americano però, soltanto liscio, canzoni romantiche a ritmo lento come ai vecchi tempi. Abbastanza per restare abbarbicati a lungo come ledera al tronco. I pianeti signori del vostro segno, Luna, Nettuno e Giove positivi, vi danno il classico tocco di genio in campo lavorativo. Se avete abbracciato la libera professione o siete imprenditori, potrete in questa giornata fruire di idee eccezionali, illuminanti per il futuro. Sappiate approfittare di questo eccellente momento di fortuna astrologica. Benessere. Un filo acciaccati, vi sentite stanchi, sul volto avete un'espressione sofferta che oltretutto vi invecchia. Subito una bella doccia, un tè con i biscotti e tornerete come nuovi. La vita vi sorride e l'amore anche di più. Per lei, severe con i vostri pupi quando occorre, ma dolci e rassicuranti in ogni momento della loro giornata, ecco perché stanno crescendo così bene, confermato da tutti, parenti, amici, insegnanti. Per lui, notte fatata tra le braccia della vostra lei, che vi sarà assicurare, ascoltare, ammaliare, farvi impazzire. Ne siete certi, avete trovato la donna della vostra vita. Colore delle emozioni, argento. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 9, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.